Ciao bestiacce! Oggi festa della mamma e il disegno margherita Cominciamo quindi con dei fiorellini tipo da bambino del certe, questi li fate tutti E regaliamo un dipinto alle nostre mamme, piccole angiolette Bagniamo i fiorellini con dell'acqua pulita Sporchiamo un po' di verde, altrimenti sembrano dei fiori da ospedale E coloriamo il centro con una scala di colori caldo Lasciateli espandere come viene via Mi raccomando non dimenticate stelo e fogliolini A questo punto stesso processo per tutti gli altri Cercate di farli tutti insieme, altrimenti siamo qua due decadi Cercate di farli più espressivi possibili, non troppo identici alla foto Che tanta vostra madre non sembra vero E gli va bene lo stesso Poi rifiniamo sta foresta con un po' di line art La cosa bella di questo stile è farlo super veloce Perché non verrà mai uguale a quello precedente Fate un bel regalo alle mamme, ditele ti voglio bene e fammi un panino